buongiorno a tutti anzi buonanotte o buonasera o buongiorno come preferite tanto questo video lo vedrete nella mattinata di domenica e riguarda naturalmente bando alle ciance ciancio alle bande perché sennò qua facciamo notte prima non l'ho detto ho sempre su la mia filpettina anzitutina di sergio tacchini che mi hanno detto che somiglia a quella dei benzinai ma fa niente sergio tacchini è tanta roba anche se è anzianotta ha la sua età è un po' molliccia diciamo però mi sta bene mia mia chiappa come si suol dire adesso vedrò di prendere una filpettina carina nerazzurra visto che le maglie non mi piacciono granché e poi magari prenderò un'altra tutina così tanto per averla una in più una tuta in più non fa mai male poi adoro le tute quindi veniamo comunque a questo gran premio dell'Eifel l'han chiamato gran premio Eifel ma alla fine della fiera è il Nürburgring gran premio mitico conosciutissimo in Germania quindi si gioca in casa di Mercedes già qua ho detto tutto però però non si sa mai perché adesso che hanno obbligato no che non possono fare i mappali cambiare da un mettere un mappale e basta cioè tu hai quello e per tutta la gara e per tutte le qualifiche per tutte le prove eccetera devi sempre tenere decidere di tenere quel quel tipo di mappale no perché possono scegliere 1 2 3 4 5 massima potenza potenza media eccetera eccetera quindi c'è quello potrebbe cambiare la situazione si spera ma staremo a vedere comunque dopo i primi giri del Q1 a parte purtroppo Alfa Romeo e As in difficoltà come al solito c'è da segnalare un Westhaven on fire davanti alle Mercedes però siamo solo al Q1 sapete benissimo che le Mercedes per il Q1 si preoccupano semplicemente di qualificarsi il Q2 magari cominciano a alzare un attimino il ritmo e poi il Q3 inoltre c'è da notare Leclerc è quarto e Vettel è nei primi dieci finalmente una Ferrari almeno competitiva ecco anche se Mercedes e Reboot con Besthaven sono nettamente davanti nettamente sono davanti non è che c'è un'enorme differenza però sono davanti a metà più o meno della fine del Q1 sono eliminati Magnussen sedicesimo Raikkonen diciassettesimo Latifi diciottesimo Grosjean diciannovesimo e Hulkenberg che poverino all'inizio delle terze prove libere alla una praticamente gli hanno detto guarda ciccio c'è Stroll che non sta bene prendi sulla macchina e vedi di fare qualcosa perché Stroll si è sentito male pare che non sia Covid però si è sentito male quindi Hulkenberg lo deve sostituire sia nelle prove di qualifica per nelle terze prove e poi dopo nelle qualifiche adesso e domani anzi oggi perché oramai che vedrete questo video sarà già oggi ma l'ha sostituito sabato nelle sia nelle ultime prove libere della una sia ahimè anche per le qualifiche quindi questo ve l'ho detto quindi proseguiamo proseguiamo perché qua la cosa si fa interessante e alla fine la classifica del Q1 è la seguente De Staffen tiene il primo posto nel Q1 e quindi già questo potrebbe fargli girare leggermente le ballette alla Mercedes visto che gioca in casa dice come ti permetti te Red Bull di starmi davanti dietro c'è Bottas ed Hamilton perché sono sempre lì quarto posto per Norris, quinto per Ricciardo, sesto Leclerc, settimo Gasly, ottavo Con, nonno Vetter, decimo Perez i cinque piloti ahimè eliminati non vi metto gli altri cinque, un diceso, un diceso, un diceso, quattro diceso, quindicesimo per non legionarvi i testi vi dico invece i cinque piloti che ahimè non andranno al Q2 che sono Grosjean sedicesimo, Russell diciassettesimo, Latifi diciottesimo, Raikkonen diciannovesimo e il povero Hulkenberg buttato tra virgolette giù dal letto si fa per dire che gli han detto salta in macchina e fai quello che puoi e purtroppo senza allenamento è un po' che non corre eccetera non è che si può inventare chissà che cosa è vero che è il, come si suol dire, l'aiutante tra virgolette, non è il termine esatto non mi viene il, vabbè non mi viene il termine comunque è il terzo pilota della Racing Point però non ti aspetti di essere buttato, vai a pilota e quindi sei visto inizia il Q2, vediamo quali saranno i magnifici 10 le due Mercedes, le due Ferrari e Ricciardo provano a qualificarsi con gomma gialla staremo a vedere cosa combineranno dopo la prima parte di Q2, Verstappen e Hamilton sono al primo e secondo posto quindi Hamilton sarebbe già qualificato con gomma gialla Albon e Norris sono terzi e quarti, Ocon e Sanz sono quinti e sesti Perez e Bosta sono settimi e ottavi Leclerc e Ricciardo sono noni e decimi poi abbiamo Vettel undicesimo, Giovinazzi dodicesimo Magnussen tredicesimo, Chiat quattordicesimo e Gasly quindicesimo ma questa è solo la prima parte, vediamo se nella seconda parte succede qualche cosa di nuovo alla fine anche i cinque piloti che hanno deciso di usare gomma gialla e se da una parte ci può stare perché comunque avevamo Bottas ottavo Vettel era Leclerc era nono e Vettel era undicesimo quindi loro tre hanno provato a mettere la gomma rossa per la seconda parte per qualificarsi tranquillamente alla fine anche Ricciardo ha deciso di mettere gomma rossa ma la cosa buffa è che ha deciso di mettere gomma rossa anche Hamilton che non ne aveva bisogno visto che aveva al secondo tempo con gomma gialla poteva partire con gomma gialla aveva appunto una strategia diversa poter andare più lungo e poi dopo mettere per l'ultima parte di gara la gomma rossa che poteva fare la differenza ha messo anche lui gomma rossa tutti con gomma rossa e quindi le due Mercedes scendono in pista con gomma rossa e si qualificano salvo sconquassi con il primo tempo provvisorio di Hamilton e il terzo di Bottas con in mezzo Verstappen che comunque era anche lui con gomma rossa e anche le due Ferrari mettono gomma rossa ma la situazione non è diciamo che è andata come è andata e anche la Renault con Ricciardo mette la gomma rossa perché quindi alla fine tutti hanno la stessa tra strategia domani anzi oggi alle 14.10 partiranno tutti con gomma rossa a parte quelli dall'undicesimo al ventesimo posto che possono decidere che gomma mettere sapete benissimo che chi non si qualifica al Q1 può decidere poi la gomma da utilizzare alla fine la classifica finale dopo questo Q1 un attimino Q2 scusate un attimino incasinato e comunque chi non si qualifica al Q3 non al Q1 chi non si qualifica al Q3 potrà scegliere la gomma che vuole indifferentemente da che cosa utilizzato durante il Q2 comunque alla fine la classifica finale vede Hamilton e Verstappen primi e secondi ma stiamo parlando di Q2 non siamo ancora in zona pole position Bottas e Ricciardo sono terzi e quarti Leclerc bello tranquillo è quinto Albon è sesto Norris è settimo Perez ottavo Sainz nono Eocon è decimo gli eliminati ahimè dal Q3 quindi dalla possibilità di giocarsi la pole position abbiamo undicesimo Vettel dodicesimo Gasly tredicesimo Kiat quattordicesimo un ottimo Giovinazzi e quindicesimo Magnussen con un As finalmente almeno un Q2 almeno una l'ha portata inizia il Q1 vediamo chi la spunterà dopo il primo tentativo Verstappen è davanti alle Mercedes che ricordiamolo giocano in casa e magari zitto zitto cacchio cacchio l'olandesino volante gli fa lo scherzettino quindi la classifica dopo la prima parte del Q1 ma poi dopo c'è ancora un giro secco da fare vede Verstappen primo Bottas secondo Hamilton terzo Albon quarto Leclerc quinto Con sesto Norris settimo Sainz ottavo Ricciardo nono Perez decimo e siamo alle solite non c'è proprio speranza se non è zuppa è pambagnato come dicevano tanti anni fa i miei nonni e quindi se non è Hamilton è Bottas ma alla fine la pole position è sempre della Mercedes c'è da segnalare però un Verstappen tanto al terzo posto in seconda fila e un grandissimo Leclerc quarto con un Vetter che appunto domani potrebbe partire anzi oggi 14.10 ve lo ricordo potrebbe partire con gomma gialla e fare una strategia diversa che potrebbe sparigliare un attimino le carte e chissà che magari zitto zitto cacchio cacchio riesce a entrare non dico nei primi tre perché sarebbe tanta roba però un quarto posto sarebbe già buono quarto e quinto posto le due Ferrari sarebbe già tanta roba se poi dovessero arrivare sul podio una delle due tutte e due sarebbe miracoloso vorrebbe dire che le prime tre hanno fatto disastri comunque griglia di partenza per il gran premio dell'Eiffel che poi è quello del Nürburgring oggi pomeriggio ore 14.10 abbiamo le due Mercedes in pole position con Bottas davanti ad Hamilton Vestafen e Leclerc in seconda fila Albon e Richard in terza O'Connor e Norris in quarta Perez e Sainz in quinta Vettel e Gasly in sesta Chiat e Giovinazzi in settima Magnus e Negrosgiani in ottava Russell e Latifi in nona e Raikkonen e Hülkenberg in decima ho guardato così per curiosità quante gran premi mancano compreso questo ce ne sono ancora sette la differenza tra Hamilton e Bottas è di 44 punti se Bottas cosa non penso possibile però tutto può accadere ricordiamoci che hanno entrambe la stessa macchina dovesse vincere tutti e sette i prossimi gran premi sarebbe lui campione del mondo anche se Hamilton dovesse arrivare secondo in tutte le gare perché praticamente facendo il calco no forse no perché ci sono 44 punti di differenza se Hamilton le vince tutte cioè se Hamilton se Bottas le vince tutte sette sette per sette fa 49 quindi avrebbe 49 punti in più di Hamilton qualora Hamilton arrivasse sempre secondo cioè arriva anche dietro ne perde quindi per sei punti per otto punti di differenza no sono per cinque punti sono 44 se vince tutte le gare lui diventa ancora può ancora diventare campione del mondo però le deve vincere tutte è vero che poi può succedere di tutto eccetera ma vista l'affidabilità della Mercedes visto che Hamilton la vedo molto molto dura che lui riesca però se dovesse vincere tutte e sette lui è campione del mondo indifferentemente da quello che fa Hamilton che arrivi secondo sempre o che arrivi anche dopo non ha speranze se Bottas le vince tutte e sette però credo che Hamilton gestirà tranquillamente la situazione gli basta vincere un paio di gare per chiudere il discorso e per stare tranquillo ecco e credo che sia nelle sue corde adesso probabilmente gestirà un attimino di più magari oggi proprio per tanto per dare un po' di verva ancora a questa gara a questo grande mondiale che mancano sette gare magari la tira un attimino per le lunghe gioca un po' col gatto col topo però il resto dell'idea che Hamilton lo può buttare solo via lui il mondiale anche se dicevano che magari Bottas si risveglia risveglia del boscaiolo mazzulate sulla testolina di Hamilton e a furia di vittorie gli fa mettere un po' di sgaggetta staremo a vedere se riuscirà a fare come l'altro come Nico Rosberg che un mondiale è riuscito a vincerlo battendo Hamilton in Mercedes o se come al solito farà il maggiordomo e dopo aver fatto un po' il galletto tac viene sorpassato e ciao staremo a vedere oggi 14.10 avremo largua sentenza detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao 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 ciao